Buongiorno a tutti, oggi cerchiamo di sorridere un pochino per quanto è possibile. Vado a ripescare qualche piccolo brano tratto dal mio libro Guerra e Covid, che è un libricino di 640 pagine. Vado oggi a rileggere qualche piccolo brano che tratta di un argomento che non dovrebbe essere molto divertente, ma si cerca in sostanza di mettere tutto sul piano dell'ironia per colpire in modo più profondo e più duraturo chi ci ha fatto soffrire in questi anni. Quindi vado a leggere, 8 aprile 2021, scrivevo Chi ci protegge dagli apprendisti stregoni e dai perfidi dragoni? 8 aprile 2021, ripeto, già si era installato il governo Draghi. Chi ci protegge dagli apprendisti stregoni e dai perfidi dragoni? Il logos, cioè il verbo, cioè la parola, all'inizio dei tempi era che le brodazze, tutte le brodazze, cioè le punturine, tanto per capirci, erano sicure. Ti fai la punturine e stai a posto. Questo era il logos, il verbo, all'inizio, no? All'inizio della pandemenza. Ti fai la brodazza e stai a posto, punto e basta. Poi che successe? Venne AstraZeneca e dopo un po' di punturine i sapienti, coloro che sanno, ne sconsigliarono l'uso a chi avesse più di 55 anni in base al noto principio di massima precauzione. Non si sa mai, è meglio che chi ha più di 55 anni, non 54, 55, non si faccia il punturino. Me coglioni, vedi che siamo in buone mani, disse un tale, vedi come stanno attenti a non farci del male. Seguì, però, una correzione marginale di rotta. Gli scienziati ne sconsigliarono l'impiego per i maggiori di 60 anni, sempre per il suddetto noto principio di massima precauzione. Infine fu dichiarata poi Tana libera tutti e la brodazza infine fu dichiarata buona per tutti. E vai col tango. Quindi prima se ne sconsigliò l'uso a chi aveva più di 55 anni, poi a chi aveva più di 60 anni e poi alla fine la brodazza fu dichiarata buona per tutti e vai col tango. La motivazione di quelle strane soglie era stata la volontà strombazzata, urbi e torbi, di agire nella massima sicurezza che più massima non si può. Si continuava comunque a giurare che le brodazze erano assolutamente sicure, le soglie di età erano state stabilite per un eccesso di scrupolo. E vai col liscio. Poi seguirono purtroppo un numero imprecisato e imprecisabile imprecisato e imprecisabile di reazioni avverse superiori alle attese, con superiori alle attese tra virgolette e con uno stupefacente doppio salto della quaglia gli espertologi arrivarono a stabilirne un uso preferenziale solo per quelli a cui prima era stata sconsigliata, cioè ai maggiori di 60 anni. Il contrario di quello che si doveva fare prima, che si doveva evitare se avevi più di 60 anni, adesso invece era diventata la regola. La mia povera mente di cittadino qualunque, abituato alla logica, alla logica semplice della vita di tutti i giorni, vacilla, stento a crederlo. Ma chi è al timone di questa barca impazzita? Inoltre, attenzione, perché qui si va nel sottile, inoltre chi ha fatto la prima punturina, anche se di età inferiore alla fatidica soglia dei 60 anni, può completare il ciclo con la seconda? Perché al momento non ci sono elementi per scoraggiare la somministrazione del richiamo, poiché gli episodi di trombosi rare sono stati osservati solo dopo la prima iniezione, non la seconda? Io penso che in una situazione di questo genere ci possa salvare solo il triplo gesto apotropaico eseguito rapidamente e consecutivamente. Grazie, scusate se rido un pochino di questi argomenti, ma è per alleviare la sofferenza. Grazie e alla prossima!